No, 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 mi chiedi, neanche, non ho poca, non so, non mi chiedono perché ci dili che vengono, no, 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 no. insomma è Subini Spotto un colo, eh? Il tremor scan! Mi sento ad un tiro Citto! Sì Questa è lì Mi sa fare il cerisino No Sì Rai una costruzione contro la battistina di un morgherio. E' un cuore un mandio, e un raro non si è finito. Trapeciò. Abbiamo un cunico e un cunico, un bambino. Sarà del dei mercati. Non c'è non c'è il dei mercati. C'è un po' che storia. Sì, sì, sì. ... 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 Guarda che una battuta con un paio di riso, ora qua, adesso non è un po' di perché... Se cari che parevo di chiedere un col santuario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.